Mancano 20 minuti all'inizio del derby di basket Varese Cantù Natalizio, guardate un po' chi abbiamo qui, Marco Boff e Omar Valentini. Due grandi, Marco lavora la spalla, Omar Aluino, Aluino e questi due grandi che vedete erano al Varese nell'ultimo anno di Serie B, assieme, ma oggi si parla di basket perché è Natale e si parla solo di basket perché c'è solo il basket. A Marco chiediamo un pronostico per oggi ovviamente e un parere sulla parola del Varese. Allora oggi non voglio portare male ma vinciamo facile, anche se è il mio esordio quest'anno al Palazzetto di Varese perché essendo a Ferrara purtroppo non posso seguire i ragazzi, quindi spero di non fare brutte sorprese, però li seguo sempre da lontano, sento spesso Max Ferraiolo e quindi sono sempre vicino ai colori bianco e rossi e mi fa molto piacere che ci stiano togliendo delle grandi soddisfazioni quest'anno. Omar invece c'è sempre, dal suo posto abbonato da una vita, ha visto tutte le partite e oggi è così facile come sembra? Assolutamente no, secondo me, però se giochiamo con la nostra umiltà possiamo portarla a casa. Il giocatore del derby? Tommy Scrabble. Salumu? E se io ti dico Salumu cosa mi dici? Può solo migliorare, con Kaya migliorano tutti lavorando con costanza, quindi ho molta fiducia. Lui è stato più diplomatico, bisogna avere entrambi i punti di vista. Io ho fatto il tifoso. Grazie Marco, grazie Omar. Grazie a voi.